Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del TG Dirpia News, una ricca pagina di cronaca accompagnerà la lettura del nostro notiziario. Partiamo subito dall'operazione congiunta dei carabinieri delle fiamme gialle nell'inchiesta condotta dalla procura di Nola e denominata operazione Jordanus che ha portato all'arresto di 16 persone e all'iscrizione nel registro degli indagati di ben 14 soggetti tra medici, avvocati e professionisti, tutti coinvolti a vario titolo in una maxitruffa alle assicurazioni per falsi incidenti stradali. Al vertice dell'organizzazione figurerebbero proprio tre avvocati del Vallo Lauro e del Baianese. E ancora cronaca con il blitz antiassenteismo dei carabinieri al comune di Avellino. Stamane oltre 20 militari sono stati impegnati nell'operazione. I dettagli nel nostro primo servizio. Blitz antiassenteismo al comune di Avellino. È scattata alle 10 di questa mattina un'operazione dei carabinieri a Palazzo di Città. I militari hanno presiedato tutti gli ingressi del municipio avellinese. Sei auto e oltre 20 carabinieri erano presenti all'interno e all'esterno della struttura per controllare eventuali assenteisti. Ma l'indagine è ancora più larga. Non solo gli assenteisti. I riflettori sono puntati anche su eventuali professionisti della timbratura e complici che si prestano a passare il beige sotto il lettore ottico delle presenze per conto del collega assente. Eventuali risultanze in questo senso potrebbero portare ad una richiesta di truffa e violazione della legge Brunetta, quella anti-Fannulloni. Sono stati fermati all'ingresso del comune tutti coloro che volevano farne accesso, dai dipendenti ai semplici cittadini, agli amministratori e consiglieri comunali. Un blitz in piena regola al vaglio degli inquirenti sono le eventuali posizioni regolari dei controllati. E rientriamo in studio e parliamo ancora di cronaca. Gli agenti della mobile della questura di Avellino hanno arrestato sei persone per furto aggravato e ricettazione. Tutti sono ritenuti responsabili di rapine e furti nelle attività commerciali della città capoluogo. A cinque dei sei arrestati è stato inoltre contestato il reato di associazione a delinquere. Noi cambiamo pagina e passiamo dalla cronaca dell'attualità. Questa mattina al Tribunale di Avellino si è tenuta la cerimonia di giuramento dei nuovi avvocati. Irpini abbiamo intervistato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Fabio Benigni. Ascoltiamo uno straccio dell'intervista realizzata da Rosa Iandiorio. Attraversiamo un momento di crisi, è una crisi che non riguarda solo l'avvocatura, ma si rivolge anche al mondo imprenditorale, alle altre professioni. Naturalmente ci sono tanti settori e tante attività che possono essere curate. Fra l'altro il problema riguarda un po' il dato nazionale, nel senso che c'è una distribuzione poco uniforme. Ad esempio in Piemonte ci sono 9 mila avvocati, mentre invece in Campania sono 40 mila. Noi come Consiglio dell'Ordine stiamo cercando di creare una rete con gli altri consigli, però per consentire agli avvocati di vivere un'esperienza fuori distretto. E chiudiamo il nostro notiziario con la pagina sportiva. In vista della trasferta di Brescia, il tecnico dell'Avellino Calcio Massimo Rastelli ha invitato i suoi a scendere in campo con la giusta serenità e determinazione. Rientreranno a disposizione del tecnico Biancoverde anche Fabbro e Castaldo. Per la pallacanestro nel pomeriggio ha parlato anche il tecnico dell'ascandone Avellino Frank Vitucci. La scandone, vi ricordo, sarà impegnata domenica in quel di Cantù per la seconda trasferta consecutiva nel giro di sette giorni. Prima dei saluti finali, vi ricordo che da oggi è in edicola il numero 12 del Biancoverde, settimanale sportivo a cura della redazione di Irpina News. Non mi resta che salutarvi l'augurio di un buon weekend dalla redazione intera di Irpina News. Grazie a tutti.